A Fratta Maggiore, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Sala Vittorio, residente a Sant'Arpino. Euro. Costituita da banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'illecita attività. A seguito della perquisizione domiciliare è stata reinvenuto, nella propria camera da letto, un bilancino di precisione sottoposto a sé e questro unitamente allo stupefacente e al denaro. Ora è ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. . .